Nuova puntata di MyRegione, spazio di Antena 2 TV, dedicato alle attività della Giunta e del Consiglio regionale Lombardo. I temi in sintesi. Chiusi i lavori della Commissione d'inchiesta regionale sull'emergenza Covid, il commento del consigliere regionale del Partito Democratico Jacopo Scandella. Bergamo, capitale del volontariato, visita dell'assessora regionale con competenze in termini di associazionismo, volontariato e terzo settore, Alessandra Locatelli. Completamento dell'autostrada piedemontana, intervento in aula del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Paolo Franco sull'urgenza dell'ultima azione dell'opera. Presentata la prima legge regionale dedicata ai giovani, insieme ad alcuni ragazzi coinvolti con i lavori che hanno portato alla stesura del testo. Carenza medici di base sul territorio bergamasco, il punto con il consigliere regionale di azione Nicolò Carretta. Incontro dal titolo Costruiamo insieme il futuro presso Palazzo Lombardia, promosso in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Como riapertura per la statale regina. A Cremona dal 27 al 29 maggio l'appuntamento con formaggi e sorrisi. Si sono chiusi i lavori della Commissione regionale di inchiesta sull'emergenza Covid e credo sia giusto, dopo un anno e mezzo nel quale i lavori sono stati secretati per volontà della maggioranza, cominciare a trasmettere ai cittadini alcuni degli esiti e del lavoro che è stato fatto in questa Commissione. Io ho avuto la fortuna di farne parte e il 12 di aprile presenterò come primo firmatario la relazione conclusiva ad opera delle minoranze con appunto i dettagli e le osservazioni e gli elementi che abbiamo potuto approfondire all'interno della Commissione. Era prevedibile, ed è per questo che ci saranno due relazioni, una di maggioranza e minoranza, che tra gli schieramenti ci fossero valutazioni diverse su quello che è stato l'operato della Regione. Però credo ci siano alcuni elementi davvero importanti che sono emersi nel lavoro di questo anno e mezzo e che debbano essere valorizzati. Con alcune premesse. La prima è che questa Commissione è stata fortemente ostacolata. Più della metà dei documenti che avevamo chiesto per approfondire gli errori e le cose che erano successe nella Regione Lombardia non sono stati forniti dalla Giunta regionale. Chi non ha raccolto fino in fondo il desiderio che noi avevamo, e cioè quello di mettere in condizione la Regione di imparare dai propri errori, di farlo con trasparenza, di farlo con l'obiettivo, con l'unico obiettivo, non di salvare qualcuno o di andare a caccia di responsabili, ma di andare a caccia di errori per non commetterli più. La seconda premessa è che ci si è voluti occupare soltanto della prima fase dell'emergenza, non della seconda e della terza ondata, dove ci sono state grosse criticità, meno in provincia di Bergamo dal punto di vista della pressione ospedaliera, ma molto in altre province e molto dal punto di vista dell'insufficienza, ad esempio delle USCA, della difficoltà di approvvigionamento dei vaccini antinfluenzali, di una serie di criticità sulle piattaforme di prenotazione ad opera di aria, tanti temi che non si sono voluti affrontare perché non si potevano giustificare con quella che è la teoria che la maggioranza ha portato avanti, cioè la teoria dello tsunami. È arrivato qualcosa di imprevisto, a cui non potevamo essere preparati, abbiamo fatto tutto il possibile. Questo è quello che tanti dirigenti della sanità e dei vertici politici, a partire dal presidente Fontana, ci hanno raccontato in audizione e che però non ci ha soddisfatto, nel senso che se nella seconda e terza ondata era impossibile giustificare gli errori che ci sono stati con la teoria dello tsunami, non era possibile farlo neanche nella prima. E infatti nella nostra relazione emergono due elementi, due pilastri. Il primo sono appunto gli errori commessi, cioè le scelte che si sono rivelate clamorosamente sbagliate. E su questo è necessario appunto approfondire, andare a fondo, capire il perché se arrivate a quelle decisioni, perché non succedono più, perché in una situazione di futura, speriamo non succeda mai, ma quando e qualora dovesse capitare un'emergenza di questo tipo, si sia più pronti per affrontarla. Il secondo pilastro però, che oggi è nero su bianco, sono le disfunzioni del sistema sanitario, cioè quelle cose che purtroppo sarebbero successe anche se alla guida non ci fosse stato Fontana o Gallera. Perché ci sono dei problemi oggettivi che vanno risolti per far sì che Regione Lombardia sia più pronta ad affrontare situazioni di emergenza. Questi elementi sono, secondo me, l'ascito più interessante del lavoro di questa commissione e devono essere utilizzati da una politica che voglia risolvere i problemi. Non possono rimanere soltanto in un cassetto in Regione Lombardia con l'obiettivo appunto di non fare tutto il possibile per risolvere quelle criticità che appunto sono emerse e sono lì da vedere e da risolvere. Questo credo sia l'obiettivo più importante che dobbiamo darci. Il lavoro non finisce qui, non finisce con la fine della commissione. Inizia appunto se c'è una politica regionale desiderosa di risolvere i problemi. Io, da parte mia, avendo fatto parte di questa commissione, ho cercato di vivere con il massimo della responsabilità questo lavoro per rispondere a quel desiderio di verità e di giustizia che soprattutto in Bergamasca ha animato tante persone a partire da chi ha vissuto la tragedia della pandemia sulla propria pelle. Speriamo appunto che questo lavoro non sia stato vano. Per tutto il 2022 Bergamo è capitale italiana del volontariato. La prima città italiana a ricevere questo riconoscimento da parte dell'Associazione Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato con il patrocinio di Anci. Una nomina che va a premiare il movimento della città e di tutto il territorio provinciale che conta più di 4.300 associazioni e oltre 100.000 volontari. Un bergamasco su 10 fa volontariato e che allo stesso tempo vuole riconoscere un territorio che è stato fortemente colpito dalla pandemia ma che ha saputo reagire anche grazie alla forza dei suoi volontari. L'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociali, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli è stata in visita a Bergamo per incontrare il volontariato bergamasco nella sede del Centro di Servizio per il Volontariato. Oggi è una giornata importante. Cioè Bergamo, capitale del volontariato, significa veramente tanto per questo territorio che ha dato tanto, che ogni giorno dà tanto agli altri e che dopo due anni così difficili di emergenza sanitaria ma poi anche socio-economica trova una valorizzazione di tutto questo sistema di una rete importante del territorio che riguarda associazioni entri del terzo settore ma anche di avere una solida collaborazione con le istituzioni. Questo mi fa veramente molto piacere perché è anche lo stesso stile di Regione Lombardia nel voler emanare progetti, risorse nella collaborazione veramente che vogliamo avere con gli enti. Beh, insomma, noi ci occupiamo di terzo settore da tanto tempo abbiamo emanato diversi bandi anche in corso proprio di emergenza sanitaria in qualità di ristori per gli enti del terzo settore e le associazioni ma anche oggi, insomma, da poco, anzi domani esce un bando che si rivolge proprio al terzo settore in termini di innovazione e di inclusione nel territorio. Io credo che ogni associazione, ogni ente del terzo settore anche il più piccolo abbia un valore inestimabile non possiamo rischiare di perdere nessuno e eventi come quello di oggi come quelli che ci saranno nei prossimi mesi grazie a Bergamo capitale del volontariato servono per rafforzare questo legame questo valore aggiunto e questo rapporto stretto col territorio che Bergamo ha da sempre. Non prendiamoci in giro sono troppi anni che stiamo in colonna di inquinare ed è meno salute, meno economia meno vivere in territori che poi ci tocca scappare perché se poterci muovere per andare a lavorare impieghiamo troppo tempo decidiamo di cambiare territori cambiamo territori, servizi non sono più utili perché poi gli ospedali non li utilizziamo più perché siamo andati da altre parti quindi richiudiamoci, richiudiamoci noi stessi. È un volano che non possiamo più permetterci così come non possiamo più permetterci che ogni volta che vogliamo una cosa in Lombardia ce la dobbiamo pagare solo noi perché la Lombardia fa parte dello Stato italiano. E allora quello che io mi chiedo dentro questo dibattito e ringrazio comunque chi ha presentato la mozione che almeno ne parliamo in modo chiaro univoco. Qua c'è la necessità alle forze che sono anche al governo dello Stato italiano di essere chiari tra i gruppi regionali e i gruppi nazionali perché là dove ci sono le scelte là dove possono arrivare le economie ci deve essere un univocità no Neil siccome ci sono io che te li do allora ricambiamo questa cosa qua. Eh no signore noi non ce lo possiamo più permettere anche di fronte a una credibilità dei cittadini non può esistere un partito di lotta e di governo non può in nessun modo non essere declinato sulle necessità. A noi serve grazie davvero grazie al Presidente Fontana che senza se e senza ma nel 2019 ha posto come condizione sine qua non di rispetto di opera prioritaria. È un'opera che non può arrivare tardi è un'opera che non è una tangenziale o un qualcosa che serve per allontanare dai territori è necessaria è un'opera che serve anche ecco perché ne parlo con necessità un territorio come quello della Bergamasca e che voglio confrontarmi con chi insieme a me qua c'è in questo Consiglio di Bergamo perché quando è stata ora di anticipare un ponte che era una necessità territoriale vi ricordarete bene quello di Calusco di anticipare un pezzo di questa strada che si doveva fare sembrava che neanche questo andava bene come se ci fosse qualche disturbo anche locale perché questa prezzo di montana fosse realizzata. Oggi in modo inequivocabile non possiamo permetterci di perdere tempo e di pensare che chi ha già progettato e in parte qualche pezzo realizzato non l'abbia fatto nel contesto di un rispetto ambientale che non può essere e non deve continuare a essere tirato per la giacchetta solo per allungare i tempi. Grazie Presidente questa nuova legge che le ha firmato ridà slancio ai giovani Dà la possibilità di tirare fuori tutte le cose buone che i giovani hanno e i giovani ne hanno veramente tante oggi in conferenza stampa abbiamo ascoltato dalla loro voce come loro aspettino soltanto l'opportunità per diventare protagonisti della vita e basta dargliela e loro la colgono al volo quindi bisogna cercare di ascoltarli di più bisogna cercare di dare loro più fiducia e così facendo sicuramente riusciranno a creare una società futura migliore di quella che abbiamo creato noi. Abbiamo visto questa mattina i giovani vogliono e devono essere coinvolti hanno un grado di maturità e di consapevolezza straordinario hanno voglia di essere ascoltati dalle istituzioni probabilmente se qualche istituzione ascoltasse di più i giovani avremmo qualche giovane in meno nelle piazze a manifestare e qualche giovane invece più a ragionare a condividere percorsi che vanno nella direzione che vogliono loro perché poi il tema vero è che quando li abbiamo ascoltati ci siamo sempre trovati in sintonia o comunque a comprendere a condividere le istanze e i sentimenti che ci dicevano guardate sul tema dell'ambiente Nadia che ha parlato oggi quel ragazzo gira il mondo romani va a Bruxelles anche per regione è un valore aggiunto di freschezza di competenza di modernità di sensibilità che sarebbe un peccato non considerare cosa fare un passo l'abbiamo già fatto fare una legge il secondo passo è fare sì che questa legge venga messa in atto come attraverso di informa giovani attraverso dei canali nuovi quindi abbiamo instagram tiktok per far sì che i nostri giovani abbiano delle risposte tante volte si dice che i giovani sono un po' sfiduciati non cercano lavoro non c'è orientamento diciamo che sono delle storie che noi ci raccontiamo noi stessi perché dal nostro punto di vista nel mio piccolo anche come consulente del lavoro ho visto che in realtà i giovani sono molto attivi su questi hanno le domande il problema è far trovare le loro risposte allora con questa legge abbiamo tentato di dar vita finalmente a questo punto di incontro domanda e risposta i nostri giovani sono il futuro il futuro passa assolutamente anche dal lavoro allora il tema delle pari opportunità è stato declinato a un tavolo che vedeva appunto in pari la presenza sia di ragazzi che di ragazze questa è una cosa bellissima perché solitamente è un tema che per ovvi motivi interessa prevalentemente alle ragazze ma non deve essere così è stato declinato nella modalità più opportuna per garantire alle donne un'assistenza per il post maternità e ai papà appunto anche per poter poi lavorare senza avere grossi problemi e assentarsi dal lavoro esatto il problema è che si sente tantissimo parlare di sviluppo sostenibile pochi però sanno poi definirlo bene dire cos'è e il primo punto è proprio interessarsi iniziare a interessarsi e capire che a livello locale si può ottenere tanto perché poi si pensa che sia una strategia o un piano da attuare solo a livello globale in realtà le soluzioni sono quelle che poi si fanno nel concreto si fanno qua quindi iniziative come queste sono quelle che davvero possono fare la differenza e iniziare a raggiungere un po' quegli obiettivi che ci siamo posti continuate a raccogliere le preoccupazioni da parte dei cittadini su quella che è ormai purtroppo diventata una situazione fisiologica sul territorio della Bergamasca ovvero la carenza numerica di medici di famiglia come stanno andando le cose? le cose purtroppo vanno sempre peggio perché più di un cittadino su dieci in provincia di Bergamo in questo momento non ha il medico di base di fatto ogni mese riceviamo segnalazioni e la notizia che in un determinato comune della nostra provincia i cittadini rimangono sguarniti di questo di questo servizio bisogna riorganizzare appunto dei servizi alternativi fino anche utilizzando la croce rossa è chiaro che è un problema che ha radici come sappiamo anche nazionali ma è altrettanto chiaro che la regione Lombardia continua a non invertire la rotta continua a non voler investire in più borse di studio per i corsi di formazione per diventare medici di medicina generale e andando a stanziare risorse che parifichino l'assegno che i medici di medicina generale in formazione prendono al pari di quello che prendono i loro colleghi che fanno le specializzazioni ospedaliere quindi continua ad essere considerata da parte della regione una professione di serie B e quindi la si rende implicitamente sempre meno attrattiva invece occorre rimettere al centro il medico di medicina generale con gli infermieri con tutto un lavoro di supporto amministrativo degli altri operatori sociosanitari e le case della comunità che si stanno iniziando ad inaugurare potrebbero essere una formidabile occasione per appunto invertire questa rotta ma anche questo sembra essere un'occasione persa perché le case della comunità sono per lo più strutture che già c'erano o che comunque non stanno andando ad offrire dei servizi davvero nuovi territoriali come dovrebbero essere secondo le indicazioni della commissione europea e del governo continueremo continueremo a battagliare su questo fronte ma occorrerà anche arrivare pronti al prossimo appuntamento elettorale delle prossime regionali per chiedere un deciso cambio di marcia l'autismo è un modo di essere non è una cosa brutta celebriamo un po' i nostri ragazzi le tantissime abilità e le tantissime competenze che sanno sviluppare nel campo del lavoro nel campo della formazione nel campo anche del tempo libero e le tantissime attività sportive ricreative che i ragazzi con un disturbo dello spettro autistico riescono a fare a completare insomma a realizzare progetti che veramente completano la loro vita questi progetti devono essere sempre più capillari per il nostro territorio per questo io li voglio sostenere ma non solo in occasione della giornata mondiale per l'autismo voglio che arrivino a tutti sono solo una parte ovviamente perché c'è una rappresentanza di alcune associazioni ma io vorrei che da casa chi vede questi video veramente capisca quanto quant'è la ricchezza e il valore dei ragazzi delle persone con un disturbo nello spettro autistico che in tante cose veramente sono anche molto più bravi di me e di tanti altri nello sviluppare percorsi appunto di apprendimento formazione lavoro inclusione sociale ed è oggi una giornata bellissima perché secondo me celebriamo proprio loro un momento molto importante questo e in questo particolare frangente la giornata dell'autismo acquisisce ancora più importanza perché siamo alle prese con un momento di grande cambiamento all'interno delle politiche sociali e sociosanitarie oggi grazie a Regione Lombardia avremo la possibilità di mettere proprio in scena il protagonismo dei ragazzi con autismo che stanno lavorando tantissimo per affermare il diritto alla vita indipendente e costruire dei processi di emancipazione dalle famiglie ed è una sfida questa di cambiamento all'interno del cambiamento che caratterizza oggi le politiche sociali e siamo molto contenti di poter condividere attraverso dei video le esperienze dirette dei ragazzi che sono impegnati e stanno lavorando tantissimo insieme agli operatori insieme a tutte le persone delle nostre organizzazioni proprio per costruire un futuro che li veda sempre più protagonisti nella costruzione del loro progetto di vita Fondazione Piatti si occupa da anni di persone con disabilità e autismo con l'obiettivo di stare accanto ai bambini ai ragazzi alle famiglie durante tutto il corso della vita in particolare il progetto che porteremo in visione oggi voleva valorizzare veramente il lavoro intenso fatto dall'equip durante i due anni di pandemia per stare accanto anche in un momento di distanza ovviamente forzata ai nostri bimbi con un progetto molto originale che ha visto diciamo l'impegno veramente ampio della nostra equip nella realizzazione di materiali che potessero aiutare le famiglie a riprogettare una routine che sappiamo quanto essere importante per i nostri bimbi e aiutarli nel sviluppare abilità e in generale vivere questa quotidianità con strumenti anche riabilitativi la regione Lombardia ha emanato proprio di recente il piano per l'autismo il piano regionale per l'autismo e dobbiamo pensare che dobbiamo sempre più prenderci cura della persona a 360 gradi non solo la parte sanitaria non solo la parte sociale ma accompagnare da quando la persona è bambino quindi ha bisogno di una diagnosi precoce di interventi specializzati e mirati fino a quando deve andare a scuola e entrare nel mondo del lavoro e avere una vita autonoma e indipendente perché tutti i ragazzi e le persone con un disturbo allo spettro autistico possono avere una vita dignitosa e devono avere una vita dignitosa partecipata e di qualità Assessore Terzi la riapertura della regina e l'avanzamento dei lavori della variante della trimezzina segnano un momento di grande importanza per questo territorio Beh assolutamente sì oggi ripristiniamo una viabilità che è stata ovviamente in qualche modo gestita con quelle che sono le alternative ma decisamente più complesse e più lunghe quindi molto meno sostenibili per quanto riguarda la vita dei territori e delle comunità che si sviluppano sulla regina quindi da oggi si riapre 4 mesi e poco più di qualche giorno 127 giorni per l'esattezza di sacrificio e di impegno insomma delle comunità di Argenio e in generale di chi si affacciava o chi utilizzava la regina per spostarsi ma che sono servite e lo sapete non si è potuta trovare una soluzione alternativa per fare in modo di far partire il cantiere tanto atteso da questo territorio ricordiamoci che della regina e dell'intervento sulla Tremezzina si parla da almeno 20 anni quindi questo è veramente il primo passo adesso parte tutta la fase molto complicata dal punto di vista ingegneristico ma che non interesserà direttamente insomma che non inciderà così fortemente sulla vita delle comunità che si sviluppano sulla Tremezzina Assessore il ruolo di Regione Lombardia e degli enti locali rispetto a quest'opera veramente tanto atteso beh diciamo che prima di tutto la Regione Lombardia è cofinanziatore dell'opera perché attraverso il patto per la Lombardia ha investito ha deciso di allocare 190 milioni di euro per fare in modo che si arrivasse ai poco meno di 500 necessari per la realizzazione dell'opera per partire con l'appalto quindi un ruolo importante in questo senso abbiamo avuto poi un ruolo e ci siamo assunti devo dire senza che questo fosse in alcun modo scritto o previsto da alcuna parte poiché questa è un'opera statale completamente gestita da ANAS quindi dallo Stato dicevo ci siamo assunti un ruolo di coordinatore abbiamo messo al tavolo e coordinato i vari antilocali i sindaci i rappresentanti appunto dei sindaci la provincia la prefettura e tutti insieme abbiamo unitamente la navigazione laghi all'agenzia del trasporto organizzato quelle che erano tutti i servizi alternativi per fare in modo che appunto le popolazioni che stanno a nord a sud ma anche chi insomma in qualche modo è stato direttamente interessato dall'interruzione potessero avere un'alternativa per muoversi questa è l'unica strada considerata i comaschi lo sanno ma i lombardi tutti forse meno questa è l'unica strada che percorre appunto il lago e che ci permette di far comunicare il nord e il sud del lago di Como interromper ha voluto dire veramente chiudere completamente la possibilità di spostarsi da nord e sud del lago di Como le alternative sono molto lunghe molto più complesse soprattutto in un periodo invernale come quello che abbiamo passato quello che si è fatto è intervenire fortemente sulla programmazione dei servizi del trasporto pubblico sia su gomma che via nave pensando agli studenti e pensando ai lavoratori che comunque dovevano continuare a lavorare in questi quattro mesi devo dire ci si è riusciti dopo i primi giorni con qualche assestamento non ci sono stati grandi problemi vuol dire che tutta la macchina e le preoccupazioni che avevamo l'aver affrontato per tempo le preoccupazioni è servito segretario Turba da esponente del territorio qual è il significato di questa giornata e in che modo Regione continuerà a impegnarsi affinché quest'opera vada in porto nei tempi previsti ma io mi sentirei di dire una sfida vinta per quanto al netto che la Regione Lombardia ha fatto solo una parte di coordinamento quindi in cantiere di Anas però al di là dei sette giorni in più quindi 120 sono stati 127 giorni e erano quelli proprio devoci per evitare i sensi unici alternati quindi per riaprire la strada alla Regina siamo riusciti di riaprirla prima del ponte di Pasqua un appuntamento molto importante per il lago per il nostro territorio quindi per dare la possibilità ai turisti di ritornare sul nostro lago soprattutto anche dopo un periodo che è stato il covid quindi di chiusura quindi una ripartenza poi il blocco della strada quindi un grande auspicio perché questi cinque anni poi che saranno nel cantiere possano continuare bene perché effettivamente l'impresa ha lavorato bene Anas ha lavorato bene il coordinamento per i trasporti alternativi anche grazie a Regione al Prefetto all'amministrazione provinciale e grazie anche alla comunicazione hanno funzionato bene ringrazio anche tutti i sindaci e i cittadini che hanno avuto la pazienza e si sono adattati a dover usare la navetta da parte da lago quindi al netto nel fatto che dobbiamo dire che ci sarà il 30 all'ora durante l'attraversamento del cantiere e al netto di quando ci saranno delle volate quindi un po' problematiche la strada dovrebbe rimanere sempre aperta ci saranno ulteriori tavoli in cui parteciperà anche la Regione Lombardia per risolvere man mano eventuali problemi che si porranno ma ripeto il sistema col tavolo di confronto con tutti i rappresentanti del territorio ha funzionato e credo che funzionerà anche dopo questo è un grande segnale una grande giornata per questa sponda del lago perché veramente è una nuova ripartenza Presidente Formaggi e Sorrisi Cremona torna protagonista con un evento finalmente in presenza sì sono i due aspetti positivi primo che si possa ricominciare ad avere queste belle manifestazioni di popoli in mezzo alla gente con tanti presenti e secondo che si valorizzino queste eccellenze del nostro territorio formaggi prodotti lattiero caseari sono per la Lombardia e per Cremona in modo particolare delle eccellenze che ci mettono in evidenza nel resto del mondo lo dicevo prima ma il nostro paese nel suo compresso è l'unico che ha una quantità e una qualità di formaggi assolutamente imparagonabili a qualunque altro paese del mondo quindi dobbiamo sostenerlo e complimenti agli organizzatori di questa bella iniziativa perché ci sarà un po' di tutto ci sarà non solo degustazione ma ci saranno giochi ci sarà musica ci saranno tanti proprio tipico di questo genere di feste perché poi alla fine sono delle vere feste popolari Presidente una vita nel formaggio la sua e a questo punto c'è una questo evento che si chiama formaggio sorrisi che vuole valorizzare e promuovere anche un alimento che forse non è conosciuto in tutta la sua interezza bravo lei ha detto esattamente come stanno le cose perché il provolone e valpadana e in generale noi pensiamo sia conosciuto in tutto il mondo prodotto dal sud che è venuto al nord qui si è ampliato il suo mercato e la sua produzione tant'è che oggi siamo nella DOP a 7500 tonnellate di produzione però anche al nord come anche in altri distretti italiani non è così conosciuto il nostro compito è quello di farlo conoscere tre motivi per cui uno deve avvicinarsi al provolone e rimanerne affascinato il provolone diciamo ha diverse sfaccettature perché abbiamo un provolone che si definisce dolce un provolone che è piccante un provolone affumicato e già queste tipologie possono incontrare il gusto del consumatore normale degli estimatori ma gli estimatori poi trovano nel provolone stagionato oltre un anno il massimo della qualità e del gusto Presidente il grana padano è ormai noto in tutto il mondo però probabilmente non tutti ne conoscono le caratteristiche questa occasione di formaggi e sorrisi potrebbe essere un'opportunità per entrare un po' più addentro al mondo che produce il grana padano sono perfettamente d'accordo guardi proprio in questi giorni noi abbiamo come consiglio deliberato di incentivare ancora di più la presenza sul territorio che a qualcuno può sembrare magari o tempo perso o risorse messe lì in più non è vero perché quello che lei dice è perfettamente sono perfettamente d'accordo abbiamo bisogno di informare continuamente di essere vicini alla nostra zona di produzione e il territorio Assessore questo evento a Cremona per due giorni ripopolerà le vie della città animandole anche con cultura sapori tradizioni innovazioni sicuramente rappresenta un'esperienza di food importantissima che andrà a riscoprire sicuramente il centro storico le vie del centro storico e le bellezze storico-artistiche attraverso le degustazioni dei formaggi italiani in particolare il provolone valpadana e il grana padano che sono anche i promotori ma avremo formaggi da tutta Italia quindi assaggi degustazioni acquisti un profumo per le vie della città di formaggio di forme diverse e sicuramente iniziative importanti che andranno anche a contaminare i nostri chef cioè tutta la ristorazione sarà in grado di proporre piatti con appunto i principali protagonisti quindi il grana padano e il provolone ma anche altri formaggi che fanno già parte dei nostri menù quindi un'accoglienza a 360 gradi dalla produzione alla tavola